Verso la luce, è questo il titolo della mostra di Sergio Raffo, una delle tappe del percorso d'arte curato da Alfio Borghese all'interno della rassegna L'Arte Visiva Contemporanea, ospitata presso la villa comunale di Frosinone fino al 31 luglio prossimo. Il titolo della mostra è emblematico, così come sono emblematiche le sue opere, alla ricerca della luce che genera l'universo e a cui l'uomo tende, come la ricerca della speranza. Io tendo a rapportarmi anche a quello che è il presente, per cui luce, tenebra, il presente ovviamente non facilissimo ma c'è sempre un spiraglio di luce che dovrebbe, almeno ci lavoriamo tutti quanti, illuminare un po' il nostro cammino, il nostro futuro, insomma è un po' la ricerca della luce e della speranza. Se noi tutti riuscissimo a pensare al nostro presente, un po' come una fiaba sarebbe decisamente meglio, è un po' questo quello che intendo esprimere dipingendo, per cui nella sostanza e nella realtà è un po' la ricerca di noi stessi bambini, perciò puri, puliti. Un altro appuntamento di una rassegna che da mesi, attraverso le opere di artisti anche internazionali, sta facendo della ciociaria uno dei punti di riferimento nel campo artistico. Abbiamo con Sergio Raffo raggiunto i tre quarti di questo percorso e l'opera di Sergio è molto particolare perché parla proprio della luce, parte praticamente dalla nascita dell'universo per arrivare ai giorni nostri attraverso lampi, attraverso tramonti, attraverso cieli e mari.